a marcelli si gioca la seconda giornata della lega 2 la gold cap 5 tra la fica felix e trincareale branchini scambia comorbidoni ancora branchini sinistro la respinta di buscari avanza il trinca con gatto atterrato calcio punizione di verdinelli la respinta di nobili gatto la palla recuperata se ne va la fica felix buscarini si allunga e respinge camiglietti sulla destra mette dentro per gatti di tacco la palla tabia sopra la traversa branchini per la fica felix si accentra sinistro termine poco al lato avanza trincareale con carancini cerca lo scambio la palla termina al lato il reca e si accentra al destro buscarini con la punta del piede nega il vantaggio a fica felix fredducci per flamini il destro nobili con i piedi secondo tempo calcio d'angolo con gatto nessun problema per nobili contropiede il trincareale contoso per reca la parata con i piedi di buscarini scandali se ne va il tunnel destro buscarini si salva in due tempi avanza il trinca con carancini per gatti la palla carancini perderò da solo il portiere che non sbaglia il vantaggio del trincareale siamo al quinto minuto ancora il trinca con gatto per gatti la scambio con camiglietti ancora gatti ed è il 2 a 0 per il trincareale all'undicesimo partita indirizzata ancora il trinca che avanza qui con flamini mette dentro la parata di nobili ci prova anche per denelli il destro termine al lato gatti per coletta ma non c'è più tempo arriva il tipo di fisco e l'abbiamo morresi grazie a tutti